Una missione, si conclude un ciclo. Noi abbiamo una missione che portiamo avanti da settimane. La NASA ci ha chiesto di scegliere degli artisti da mandare nello spazio a testimonianza di tutta questa umanità e stasera ne vedremo un altro che manderemo nello spazio grazie a che cosa? Grazie a Razzo. Grazie a Razzo! Grazie a chi? Grazie a Razzo! Grazie a Razzo! Buonasera, avanti, prego! Buonasera! Buonasera, buonasera. Venga, venga avanti, venga avanti. Grazie. Come si chiama? Adesso o di solito? Di solito come si chiama? Ah, Roberto Dell'Ara. E adesso? Bob the Rapper. Bob the Rapper. Quindi lei è un rapper? Certo, non si vede? Certo, sì, 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 si capiva, si capiva, si vede che è un rapper, no Paolo? Quindi lei fa rap? Eh, certo. Da quanti anni? Ma un paio di settimane. Un paio di settimane? Perfetto, è perfetto. E se ha talento. E si esegue un suo brano? Sì. Ah, un brano inedito, ha scritto lei? Sì, sì, frutto della mia farina, no, no, aspetta, no, frutto della mia fantasia, no, quell'altro è sacco. Farina nel suo sacco, farina nel suo sacco. Sì. Va bene, va bene, va bene, va bene. Speriamo si tratti solo di farina, si diverta e mocca al lupo. Questo è il mio rap. Eh... Rap, rap, questo è il mio rap. Rap, rap, questo è il mio rap. Lo fanno tutti, lo faccio anch'io. Pio, pio. Rap, rap, questo è il mio rap. Rap, rap, questo è il mio rap. Guardiola Pep. Pepino, Pep Puccio. Io il cantuccio del vino lo puccio. Rap, 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 questo è il mio rap. Rap, rap, questo è il mio rap. Questo è il rap della birra. Mica del Vincenzo della birra. Rap, rap, questo è il mio rap. Rap, rap, questo è il mio rap. E viva la pasta asciutta. Io me la mangio tutta. Rap, 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 questo è il mio rap. Rap, rap, questo è il mio rap. Non è mica il tuo, è il mio. E allora, bella zio. Almeno, devo dire, ci siamo tolti sicuramente un dubbio. Abbiamo capito che non si tratta solamente di farina, ma sicuramente è del suo sacco. Vuole fare un appello alla NASA? Può dire anche no. No, ma che è questa NASA? Qual è questa NASA? È quella, guardi. Ci sono quelle. Guardi la luce in fondo al tunnel. Ok, ciao. La segua, la segua. Segua la luce in fondo al tunnel. Vada. Ciao. Ciao. Ma quei ragazzi lì dietro? Sì, sì, sono loro. Quello è proprio la NASA. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Grazie a lei. E grazie a Razzo. Prego. Grazie a chi? Grazie a Razzo. Guarda. Se nello spazio hanno già inventato il reso, questo torna indietro dell'arco di vento.